Una buona giornata ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per lavori di pavimentazione ci sono 10 km di coda tra Baldarno e Firenze Sud. Sulla FIPILI per lavori in direzione Firenze un chilometro di coda tra Empoli Est e Montelupo Fiorentino. In direzione mare rallentamenti tra Ginestra Fiorentina e Montelupo. Chiuso lo svincolo di Montelupo in entrata in entrambe le direzioni e in uscita in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in prunita. Sulla statale 64 Porrettana all'altezza della galleria del signorino restringimento di carreggiata e senso unico alternato. Buon versi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!